Buongiorno amici e amici, buon sabato e bentornati a Suona la sveglia, inizia il make-up! Io oggi sono KO, stanchezza, mal di gola, raffreddata, ma come sempre qua presente per fare skin care e make-up assieme a voi. Cocona, modi lottatori di sumo, il pensiero di oggi è l'eleganza sta nei gesti. Sì, perché l'eleganza è secondo me una qualità, una dote molto bella. Quanto bello è vedere magari una persona dotata sì di fascino e carisma ed elegante nei gesti e nei movimenti. Perché non sempre una camicia, un pantalone, una borsa particolarmente magari elegante ma anche di lusso è sinonimo di eleganza. Invece altre volte chi magari non è chissà con che abbigliamento super mega elegante, però è elegante nei gesti, nei pensieri, ma soprattutto nei modi che ha nei confronti delle altre persone. Sì, perché la generosità è anche eleganza secondo me e dimostra un atteggiamento di un certo tipo. Adesso non so bene come spiegare questa cosa, però io sono da sempre convinta appunto che l'eleganza non sia una cosa che viene trasmessa con un determinato abbigliamento. E soprattutto che queste cose magari costino tanto, ma dipende proprio da com'è la persona. Infatti può esserci secondo me una persona che magari anche totalmente con qualcosa di semplice e anonimo è invece estremamente elegante e affascinante. Maggini, pini, brufolini e le occhiaie da pandina. È arrivato il momento come tutti i giorni di un pizzico di allegria. Poi approfondiremo magari questo pomeriggio l'argomento dell'eleganza. Il correttore che stiamo utilizzando oggi è magnifico. Il Wonder Me Cancella Stanchezza, correttore perfezione istantanea di Pupa in colorazione 030. E una puntina se serve di correttore eraser di Maybelline New York che mi sta piacendo tantissimo. Abbiamo sfumato il tutto con un pennellino per fondotinta e ora settiamo, fissiamo bene il correttore con un pizzichino di Fix Me BB Powder di Bella Oggi in polvere libera. Questa meraviglia invece è il blush di Charlotte Tilbury, molto carino, è il Pillow Talk Cheek to Cheek. Bellissimo veramente, è la colorazione appunto Pillow Talk ed è veramente molto molto carina. È super illuminante anche questo blush. Invece il prodotto Labbra Lip Card di oggi è il lip volume stilo di Kiko in colorazione 01. Volumizza le labbra ma non pizzica per niente ed è molto carino. Ma strega, comanda color. Oggi palette utilizziamo la Beautyverse Palette di Charlotte Tilbury. È bellissima e noi oggi utilizzeremo il bianco. È bellissimo questo bianco, è super perlescente, super candido. Come sempre ci facciamo aiutare dal nostro amico scotch di carta. Guardate che bello, è un pigmento veramente potente. Le perle si rivelano immediatamente anche solo col pennellino. Ma se lo applichiamo col dito riusciamo quasi a spaccare meglio le perle perché col colore delle dita diventa ancora più luminoso. Un po' di marroncino per andare a colorare bene la parte della nostra piega dell'occhietto con questo bellissimo marrone. Guardate che carino, ho già l'effetto super sofisticato, molto bello, con un pennellino angolato. Ho preso il marrone più scuro e ho creato una sorta di micro linea, tipo una sorta di eyeliner ma in realtà fatta con l'ombretto. La parola segreta di oggi è bianco come il Natale e mi piacerebbe tantissimo un cuoricino bianco come emoji segreta di oggi. Guardate che carino, veramente bello secondo me, super carino per il periodo anche che arriva, no, natalizio. Il mascara che stiamo utilizzando oggi è lo Sky High di Maybelline New York. L'abbiamo applicato da solo senza il primer e devo dire che l'effetto è molto bello. È super comodo da applicare perché non fa assolutamente grumi e mi piace veramente tantissimo. Il prodotto labbra di oggi è una combo di lip liner, molto bella di Charlotte Tilbury. Questa lip liner è la Pillow Talk Lip Cheat, bella, bella, molto carina e l'avevamo trovata, se non sbaglio, nel Treasury Box e in abbinata come prodotto labbra utilizziamo l'Epic Kiss Yaluronic, un color balm veramente bello. La colorazione è Pillow Talk, è veramente stupenda questa combo labbra e devo dire che lo trovo molto natalizio come make-up, mi piace un sacco. O fatemi sapere come sempre nei commenti se il make-up di oggi vi piace, se lo trovate luminoso e soprattutto se vi piace per il periodo natalizio. Io come sempre sono molto felice, mi sono divertita tanto, vi mando un bacio grande, grande, grande. Ci vediamo nel video del pomeriggio e ci sentiamo nei commenti. Ciao amiche e amici, buona giornata, a dopo, fate i bravi!